musica ok non ci sono porte aerei buono il nero il nero non ci sono il nero un certo non ci sono e non ci sono le gioco il nero il nero il nero Battle starts. Cattura la base di Bravo. Guarda, le FK capitano sempre, quindi non mi stupisco neanche. Peccato che sono FK perché altrimenti potevano già sparare perché ho spottato le navi. Peccato davvero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, lì dentro. Eh, lo sapevo che volevi andare da quella parte. Lo sapevo. Lo sapevo che eri lì. Lo sapevo come. Grazie a tutti. 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 i giocatori della domenica sono i più divertenti. E' incredibile. Sì Non so se beccola Magi Però lui non ha Molta scelta di posizione Può andare solo dritto Quindi la potenza penso che sia già Al massimo dovrebbe beccare I siluri dovrebbero andare A segno in teoria però Non sono convinto al 100% Vediamo Perché non può fare manovre strane Quindi Dovrebbe essere un buon Devasting strike se tutto va bene Poi posso andare con il fumo tra pochi secondi Devo decidere Finitutto su chi andare Ok Ah l'ho detto Non poteva fare molto Molto bene Andiamo di HE Perché comunque L'incendio sarebbe ideale In questa circostanza Perché comunque Alleveremo molti punti Perché sta già bruciando Altrimenti anche i 1.6 Mille quando un mero Come da In questa circostanza ma per favore per favore proprio quando leggo certe cose mi viene solo la rabbia mi viene dobbiamo fermare i punti di capo non so come perché comunque loro hanno un vantaggio se distruggono la Carolina ce la possiamo fare perché adesso blocco il cap loro hanno la Benson la Benson non so quanti punti abbia quindi partiamo da questo presupposto servirebbe un altro eccola ecco ecco ma io vuole capire che cavolo fa nulla ciao deggy a Ha lanciato i ciluri Poco ma sicuro Ancora la devo usare sinceramente La duca Ecco i ciluri Ragazzi più di così non posso fare Non posso fare perché veramente Ho bisogno di una mano Loro sono molto vicini sul punto di bravo Purtroppo sono dovuto scappare Perché comunque la Benson O la Tago possono aver lanciato i ciluri Cosa che effettivamente abbiamo anche visto Però Magari possiamo Possiamo andare sulla Agio Se distruggono la Agio Possiamo vincere Però vi dovete muovere Indenburg Indenburg Sei lontana Indenburg Eh va bene Dai Dai che mi arriva anche il Kraken Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì 148.000 danni, 288 hit, 6 siluri, 4 critici, 5 navi affondate, 2 incendi, 2 falle e 2 basi, un assist. Ragazzi, che vi devo dire di più? 2326 punti. Bene, bene, bene. Abbiamo fatto davvero male a tutte le navi. Crediti, levate le varie spese, 216 in alto, 8.700 esperienza per quanto riguarda il comandante.